La salvezza diretta non è una missione impossibile. L'Arezzo dopo Livorno e Siena batte anche il Pisa e il terzo derby in cassaforte fa risalire le speranze di permanenza in categoria senza passare dai play-out. Sconsiderati no, coraggiosi sì, aveva detto Pavanel alla vigilia, la formazione ne è la logica conseguenza. Difesa 4, rombo in mezzo al campo, foglia dietro le punte. L'Arezzo deve vincere in una volata salvezza che passerà anche dai tribunali. Fa molto caldo al comunale, c'è un bel colpo d'occhio sulle tribune con i 2.500 spettatori. I primi squilli sono di Masucci, tiro alto e di Moscardelli dalla distanza. Conclusione fuori. Il capitano a digiuno dal 28 gennaio sfiora l'1-0 al diciottesimo. Cutolo lavora un gran pallone e pennella in testa al Mosca che la mette pochi centimetri sopra la traversa. È un buon momento per l'Arezzo sul primo angolo amaranto. Calciato da Cutolo, Muscat la tocca in anticipo ma il pallone attraversa tutta l'area e termina fuori. La gara è piacevole, l'Arezzo fa possesso con bella padronanza al 36esimo, costruisce una nitida palla gol. Lulli, Luciani, Foglia, Cenetti portano Moscardelli al tiro ma il sinistro a giro delle centravanti è toccato da Voltolini in angolo. Poco dopo Lulli, suo assist di Cutolo, chiude troppo il piattone e spedisce sul fondo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Il letterbi si sblocca dopo 4 minuti della ripresa. Cutolo manda Foglia in profondità, cross in aria deviato da ingrosso e Moscardelli è bravissimo a coordinarsi nel controtempo e a infilarla alle spalle delle portiere. E' il gol numero 12 per il Le Bomber che interrompe il digiuno che durava da tre mesi. Su azione addirittura Moscardelli non segnava dal 30 dicembre. La partita si fa più a corta, Pavanele non vuole rischiare nulla e dà spazio a Della Giovanna per Foglia passando al 3-5-2 proprio a metà frazione. Il Pisa comunque sicuro del terzo posto in classifica batte un colpo soltanto con questo tiro dalla distanza di Mannini ma Ferrari è attento. Con l'ennesimo assist della partita Cutolo manda in zona tiro anche il subentrato Yebli. Apprezzabile il gesto atletico e tecnico delle francese fermato in corner. Dopo 4 minuti di recupero Amabile fischia la fine. L'Arezzo scavalca Gavorrano e Cuneo agguanta il quarto ultimo posto e mette il Prato 8 punti sotto. Se dai ricorsi nei corti d'appello arrivasse anche solo un punto di sconto sulle penalizzazioni, una vittoria a Carrara sabato prossimo vorrebbe dire salvezza diretta.